L'immagine attuale del satellite ci mostra un'Africa sahariana e sub-sahariana interessata da numerose celle temporalesche. La particolare di queste celle temporalesche è che si trovano spostate più a nord del normale e vanno ad interessare aree desertiche. Questa, abbiamo visto nei nostri approfondimenti, era una delle caratteristiche più importanti della circolazione a scala globale, quella proprio di vedere degli accumuli di precipitazioni previsti dai modelli in maniera anomala proprio nelle aree desertiche. Diciamo che le temporali nelle aree dove convergono gli alisei sono normali perché questa è una zona dedita ad una attività temporalesca, solamente che in questo periodo dell'anno stiamo osservando non solo una attività convettiva molto anomala, ma anche delle precipitazioni che sono spostate più a nord della media. Questo ovviamente va di pari passo con lo spostamento a nord della zona di convergenza intertropicale. Questa fascia dove appunto convergono gli alisei e si generano nubi e precipitazioni è più spostata a nord per due motivi. Uno perché abbiamo un monzone più forte della media e secondo perché c'è un'azione legata alla circolazione globale che genera un'onda di rosbi stazionaria che apporta questo movimento verso nord della zona di convergenza intertropicale. Di conseguenza noi abbiamo che queste onde orientali in seno al getto orientale africano è più spostato a nord. Ora quello che abbiamo visto nell'ultimo periodo è quello di avere anche un contenuto di acqua precipitabile molto anomalo per quanto riguarda proprio la fascia sariana e sub-sariana e questo ovviamente significa anche energia per i sistemi convettivi che stanno ovviamente apportando delle precipitazioni molto al di sopra della media tra il Niger e il Mali ma anche notate anche delle precipitazioni che si fanno largo sulla fascia proprio deserta, sulle Sahara. Ovviamente questi sono accumuli per noi modesti, possono apparire modesti ma nelle zone dove ovviamente non sono possiamo dire abituati a precipitazioni frequenti ed intense e per loro ovviamente sono molto al di sopra della media. Queste precipitazioni stanno causando non pochi problemi tra proprio tra il Niger, il Cihad ma anche sul Mali. Questo fatto di avere uno spostamento più al nord della zona di convergenza intertropicale, dunque di avere un movimento più settentrionale delle onde orientali vanno a incidere anche per quanto riguarda la stagione degli uragani atlantici perché queste onde orientali sono poi il germoglio dei cicloni perché poi muovendosi verso l'Atlantico vanno a generare proprio i cicloni atlantici. Ma in questo periodo l'Atlantico è piuttosto quieto, abbiamo un periodo molto di apparente, diciamo che l'Atlantico sta dormendo perché ci sono delle condizioni che non facilitano la genesi di attività ciclonica. Una, per esempio, è legata alla circolazione a larga scala, quale per esempio la Madden-Giulio-Oscillation che genera dei moti discendenti, quindi va a sopprimere la convezione in Atlantico. Un secondo motivo è legato appunto anche alla massa d'aria calda che genera una maggiore stabilità proprio in Atlantico e un altro motivo anche importante è legato proprio a queste onde orientali che sono spostate più al nord della media. Quando queste onde orientali si spostano a più al nord della media, alla fine dei conti sono più deboli quando escono, diciamo, nell'Atlantico perché si trovano in una zona non molto loro congeniale. C'è anche dello sciro del vento e quindi questo non facilita la genesi di questi germogli che poi sono alla base dei cicloni atlantici. Quindi i cicloni atlantici, attualmente l'Atlantico risente anche della situazione anomala che si sta registrando proprio sul Sahara. Però c'è anche da dire che questa Africa va a influenzare anche la circolazione dell'Europa meridionale, soprattutto del bacino del Mediterraneo. Lo vediamo attraverso questa immagine animata del sito di Tomerburg che ci mostra la quantità di acqua precipitabile che sul Nord Africa è molto al di sopra della media e raggiunge valori record. Eccolo qua. Questo qua, con il colore verde più acceso, rappresenta proprio il quantitativo di acqua precipitabile molto al di sopra della media che andrà poi a portare queste precipitazioni anomali per la zona. Ebbene, notate come questa quantitativa, questa piuma di acqua precipitabile venga trasportata verso il Nord da parte delle onde orientali che si muovono appunto verso il Nord. E' agganciata nel momento in cui si muove verso il Nord questa piuma verrà agganciata proprio dalla circolazione ciclonica che intanto si è impossessata dell'Europa occidentale e che sta apportando questa ondate di maltempo. Questa azione ciclonica è isolata dall'aumento della pressione in Atlantico verso l'Europa centrosettentrionale, quindi viene isolata, ma poi questo vortice verrà agganciata da un'onda di rosbi che si muove dall'Atlantico e verrà poi catapultata in Atlantico. Ma notate come il suo movimento andrà a pescare questa massa d'aria molto umida. Quindi questa umidità ha energia anche per le precipitazioni, precipitazioni che già di per sé sono abbastanza intense per quanto riguarda l'Italia e anche la Francia e la Spagna, ma questa situazione di maltempo tenderà a persistere proprio in virtù di questo vortice che tenderà a ritornare sui suoi passi e tenderà poi a attraversare l'Italia agganciando questa piuma di aria molto umida di estazione subtropicale. Quindi la perturbazione che tra domenica e lunedì arriverà l'Italia sarà alimentata da questo fiume di vapore che avviene, che deriva proprio da questo spostamento verso nord-est delle onde orientali e poi questo spostamento in nord-est verrà agganciato da questa saccatura. Precipitazioni dunque che saranno sopra media non solo su diverse regioni d'Italia ma anche sull'Europa occidentale e soprattutto anche su quella balcanica. Quindi ci aspettiamo che tra domenica e lunedì questa nuova perturbazione possa portare precipitazioni localmente intense perché saranno anche alimentate non solo dal Mediterraneo molto caldo ma anche da questi fiumi di vapore che hanno un ruolo fondamentale, importante per quanto riguarda le precipitazioni. Ricordiamo che poi queste masse d'aria più calda in un mondo più caldo tendono ad avere a trattenere molta più omodità. Nella cronaca di Lorenzo Badellino attualmente potete notare gli effetti di questa prima perturbazione che sta interessando l'Italia con nubi fraggi e allagamenti su diverse zone d'Italia come per esempio sul Lazio ma soprattutto sul Piemonte queste precipitazioni ovviamente questo è un attimo al tempo poi tenderà a raggiungere possiamo dire l'apice tra domenica e l'inizio della nuova settimana. Poi al seguito di questa perturbazione ci sarà questo afflusso di aria relativamente più fresca dal nord atlantico che porterà un generale abbassamento delle temperature su tutta la penisola ovviamente al seguito di queste perturbazioni che poi andrà anche a interessare le regioni del sud d'Italia che stanno adesso ancora sperimentando nonostante le precipitazioni in atto che si sono avute in quest'ultimo periodo stanno sperimentando anche gli effetti di questa prolungata su città di lungo periodo quindi questa aria fresca si raggiungerà anche il sud d'Italia portando dunque un calo delle temperature e dunque l'estate quella calda che abbiamo visto nell'ultimo periodo tenderà a lasciare il campo ad una fase meno calda con temperature anche che andranno sotto la media tipica del periodo secondo una classica rottura di stagione tutti gli approfondimenti i dettagli su questo peggioramento li trovate sul nostro sito trebimeteo.com grazie e arrivederci